Devo cercare di evitarlo in qualche modo Vediamo se riesco a lanciargli questo Nooooooo Hanno messo pure la data di uscita E la data di uscita è il Carissimi amici è arrivato PaninoTube E oggi sono qua perchè devo darvi Una grandiosa notizia Si vabbè l'avete già letto dal titolo Finalmente sappiamo la data ufficiale di Ice Cream 4 Però questa volta non voglio fare Il classico video notizie dove mostro Schermate così con like parlo e basta Questa volta voglio fare un video gameplay E andremo a fare Ice Cream 1 Dopo tanto tempo Era da tempo infatti che volevo fare il primo capitolo del gelataio E durante questo video vi darò La notizia della data ufficiale del quarto capitolo Quindi che dire partiamo subito Ma prima di partire lasciate qui sotto Tantissimi like anche in questo caso Facciamo il gioco dei like che so che vi piace un sacco Quindi se il like sarà di numero pari Rod vi darà un gelato Se invece sarà dispari Joseph il padre di Rod vi darà un gelato E se invece il numero finirà con lo 0 Sarà Sister Madeline la suona di Volnan A darvi il gelatino Fatemi sapere qui sotto nei commenti Chi è che vi darà il gelato In base al numero dei like che avete lasciato Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Per far parte della Panino Family Ma adesso partiamo subito E rifacevo questo primo capitolo Che era da tempo che volevo fare Infatti Infatti molti di voi mi avete detto Panino perché non rifai i vari capitoli di Ice Cream Nell'attesa che esca il quarto capitolo E quindi che dire E' arrivato il momento dato per farlo E qua siamo con il primo capitolo Mamma mia quanti ricordi Quanti ricordi ogni volta che gioco il primo capitolo di Ice Cream Allora Per uscire fuori casa dobbiamo trovare una corda Quindi la troviamo subito qua Su su veloce veloce Corda trovata perfetto Apriamo la finestra Ma guardatelo qua Il primo filmato di Ice Cream Guardatelo lì Ciao Charlie Io ti consiglio di non prendere il gelato da lui Io te lo consiglio Anzi ti sconsiglio di prenderlo proprio E infatti E infatti Mamma mia Mamma mia Rod E sempre che congeli i miei amichetti Sto gelataio va sempre a congelare i miei amichetti Ma vai a congelare i tuoi amici Non ho capito Rod Vai a congelare i tuoi amici Anziché congelare i miei E allora Scendiamo qua velocemente Solo che ora è qua E mo qua faccio rumore perché Ho lasciato Via 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 Subito me lo sono trovato Subito Mi era preso un colpo Mi era preso un colpo Quindi questo direi di appenderlo Però voglio recuperare la torcia Sì la torcia Vabbè la fionda La slimeshot E casualmente si è bloccato proprio lì davanti Dove devo andare io Ok Rod Vai pure Via Vai pure via E io nel frattempo me ne vado qua Direi di andare subito qua nel parking Nel parcheggio Così già che ci sono Vado a premere il pulsante Per poter recuperare il go-kart Ok Usciamo subito fuori Questo lo usiamo subito di qua E vabbè Ma subito qua c'è Rod E mi sa che il go-kart lo aprirò L'anno prossimo L'anno prossimo aprirò qualcosa Ma da quando Rod spawna qui sotto? Da quando? Io solitamente l'ho visto sempre spawnare Piano superiore E' la prima volta che mi succede di vederlo qua Vabbè non importa Facciamo il giro qui intorno Così posso andare ad aprire Finalmente quel pulsante Ed era anche ora Mi è sparito un gelataio Meno male Meno male Andiamo subito qua ad aprire Veloce Perfetto Perfetto Aperto di qua velocemente E ora ce l'andiamo subito via Questo dirì di lasciarlo qua E andiamo adesso nello stall Andiamo a recuperare la tannica da riempire Con il gasoline Con la benzina Perfetto Stall Garage di Rod Il suo posto segreto Rod dove sei? Eccolo qua Già di qua Intanto la tannica sta lì dietro invece Quindi corriamo velocemente a recuperarla Veloce 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 Tannica di benzina Ok Su su prendi qua Perfetto Fatemi sapere se poi vorreste rivedere anche gli altri capitoli Per rifarli Quindi questa la lasciamo di qua Ce ne andiamo direttamente in caffetteria E adesso qua invece dobbiamo prendere due cose Uno è il nome del dipendente Di quello che dovrà aprire la caffetteria la mattina dopo Seconda cosa L'olio per togliere la grata Ok solo che ora Dobbiamo fare attenzione a Rod Perché Rod si può trovare ovunque Rodino dove sei? Eccolo là infatti E' lì nella cucina Ho visto la porta aprirsi Rod Su Andai qua Non vieni più Fuori Su su esci fuori da questo lato Che ci divertiamo insieme a fare le belle cose Vieni 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 Caro amichetto gelataio Quanto ti voglio bene Quanto ti voglio bene Due cose dobbiamo prendere Dobbiamo cercare di prendere subito Solo che Rod scusa eh Non è per te Ma dove sei non sei più uscito E infatti ed esci fuori Ed esci fuori mamma mia Mamma mia Eccolo là Eccolo là Quindi salta subito qua dentro Andiamo dritti in cucina Recuperiamo come prima cosa il nome del dipendente E poi l'olio Quindi il nome del dipendente è Sofia Perfetto Ora apriamo sti cassetti Fai quando non troviamo l'olio Su olio Dove sei dove sei Ok trovato l'olio Perfetto perfetto Si trovava nell'angolino L'ho trovato subito Ora però dobbiamo fare attenzione Perché Rod ci verrà a prendere Rod il gelataio Vieni pure Vieni pure Dove sei dove sei Eccolo là Guardatelo lì il nostro caro gelataio Dove vai Dove vai gelataio caro Che tanto non mi prenderai Non mi acchiapperai Via via Salta di qua Velocemente Scappa 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 Veloce 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 Oh mamma mia Sta già di qua Sta già di qua Devo cercare di evitarlo in qualche modo Vediamo se riesco a lanciargli questo No No Volevo lanciargli lo addosso Invece no Non ho funzionato Via 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 Corriamo 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 Mamma mia Mamma mia Perfetto perfetto Cioè andiamo qua adesso nel Nel playground Vai E ora possiamo subito utilizzare innanzitutto l'olio Quindi andiamo di qua Così possiamo già riempire Sapete che cosa La tanica di benzina E poter usare la gasoline Velocemente Adesso andiamo di qua Veloci 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 Sperando che il rod non ci stia seguendo Ok il rod non sta qui dietro Solo che adesso qua farò rumore Una volta che toglierò sta gratta farò rumore Non vorrei che il rod Ok perfetto Vai Torniamo indietro E andiamo a prendere stavolta la tanica Per mettere la gasoline Ma facciamo attenzione a non farci vedere da rod Facciamo molta molta attenzione Vai Non è di qua rod Perfetto Perfetto Andiamocele subito Via 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 Recuperiamo come prima cosa Qua la gasoline Il petrol can volevo dire E ora ce ne corriamo Verso l'altro lato del parcheggio Sì vabbè Che parcheggio Del coso Come già chi si chiama Del parco giochi Ecco Non mi veniva il nome Nel frattempo controllo dietro Perché non si sa mai Che il rod magari Sbuca dal nulla E mi venga a prendere Ma speriamo di no Speriamo di no E adesso muoviamoci Riempiamo subito questo qua Lo rifilliamo subito Veloci veloci Ok Bene 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 Nel frattempo sto pure qua A guardare Su su Metti qua Riempi riempi Velocemente Tanto il rod non dovrebbe essere qua Perfetto Ce l'abbiamo fatta E adesso possiamo andarcene subito Via Ma facciamo soltanto attenzione Perché non vorrei mai Ritrovarmi il rod Durante questo percorso No Non vorrei mai ritrovarmelo qua Rodino Sei di qua Non è di qua Meno male Meno male Veloce No E vabbè rod E vabbè Ma dai Ma dai È già subito qui È già subito qui il gelataio Mamma mia Mamma mia Dobbiamo andare di qua Cercare di girargli intorno In modo a poter tornare indietro In totale sicurezza Vieni qua rod Vieni qua gelataio Che ti aspetto Che ti aspetto Veloce veloce Vieni qua Vieni qua So so Eccolo là È arrivato rod Che cerca di prendermi Ma per scusa rod Non è per dire Ma perché vuoi prendermi Io dopo tutto Non sono neanche un chubby boy Non sono un chubby boy Perché rod Vuole venirmi a prendere Sono normale Ah vabbè sì Perché giustamente Sono l'amico di charlie E quindi io sento che voglio salvare charlie Lui vuole fermarmi Muoviamoci Muoviamoci Velocemente Adesso andiamo a lasciare qua Il petrol can Direttamente dentro il furgone E andiamo a recuperare La chiave Del guardiano In modo a poter Prendere la tessera di sofia Quindi lascia questo di qua Velocemente Ce ne corriamo Via 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 Andiamo a fare subito qua L'enigma delle leve E questo è l'enigma Che a me veramente Non piace Non piace Perché non so mai Come mettere la leva La giusta combinazione Su non ti bloccare dietro le panchine Velocemente Prima che venga quel gelataio Non vorrei mai beccarmelo qua davanti Mai mai e mai Su su Vediamo se già così va No non va così Premi qua il bottone Non va Su su muoviti Muoviti Ok vediamo così Neanche così va Mamma mia Mamma mia Ah non chiedetemi come Sono riuscito ad indovinare la combinazione Vabbè capirete che grande combinazione che ho fatto Però intanto ce l'ho fatta Ora muoviamoci Andiamo subito a prendere La chiave del guardiano In modo a poter aprire la stanza dove si trova La tessera del guardiano Cioè la tessera del dipendente Quella dove ci sta Sofia Velocemente dovevo trovare la giacca Rod non sbucare fuori Non venire Rod Eccola qua Trovata la giacca Perfetto Prendiamo qua la chiave Su su prendi qua Office key Chiave del guardiano Ed eccolo qua Ora Rod puoi venire Puoi venire pure Non c'è problema Tanto adesso io qua ci giro intorno Lo devi intorno E me ne vado via da questo lato Veloci 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 Scappiamo 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 Ok ok Entra qua dentro Vai E ora possiamo andare ad aprire La stanza dell'ufficio Vai 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 Muoviamoci Muoviamoci Eccoci qua Vai Ice cream 1 E' uno dei miei capitoli preferiti Perché proprio c'è quel senso di novità Qualcosa di diverso rispetto agli altri giochi horror E questo soltanto nel primo capitolo possiamo notarlo No ma che caffetteria Andavo ad andare in caffetteria Devo andare qua nel parking Non in caffetteria Che mi vado a fare il caffettino Vabbè Cioè andiamo qua Velocemente ora saliamo di sopra In qualche modo dove sta Rod Devo cercare comunque di farlo scendere Perché io devo salire di sopra Quindi io faccio una bella cosa Io faccio cadere la chiave qua sotto Più volte Uno E due In modo da tirarlo qua sotto Così io posso salire di sopra E entrare indisturbatamente Dentro l'ufficio del guardiano E poter prendere direttamente la tessera di Sofia Muoviamoci Muoviamoci Ok ok Eccoci qua Ciao c'è qualcuno Gelataio sei da queste parti Non è di qua Ok Rod è sceso È sceso di sotto Perfetto Apri qua Chiudi subito Prendiamo la tessera di Sofia Velocemente Sofia Sofia No non è di qua Ok Sofia Perfetto Dimmi che non sei di qua Forse da queste parti Aiuto 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 Io me ne scendo Nel dubbio me ne torno di sotto Tanto la tessera di Sofia Quindi posso agire indisturbatamente Ok via 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 Ok Mamma mia ho visto di là una sagoma farsi Ok Andiamo qua in caffetteria Velocemente Abbiamo la tessera E così possiamo recuperare La chiave del garage Garage segreto Che si trova qua Ok usa qua subito la tessera Apri qua Scendiamo subito sotto Vai Recuperiamo la chiave Che sta qui sopra Velocemente Ce ne saliamo Ok ok E dai Rod Come è fatto a capire Che stavo qua fuori Come è fatto a capire Mamma mia Rodino Mamma mia Ok Cerchiamo di fare qua il giro intorno Speriamo di non farci vedere No no è là dietro E vabbè Rod E che No mi hai visto girare qui E veramente Pure si perde Sto gelataio Si perde pure Veloce 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 E mi sa che non ce la faccio Forse ce la faccio Ok Andiamo qua nel parking Perfetto Perfetto Dai che ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Per salvare il nostro caro amichetto Charlie Che bello Apri qua la porta Rod dove sei Non è di qua Perfetto Dobbiamo trovare il garage numero 253 Che è questo Si è questo qua Perfetto Apri qua Vai vai Muoviti 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 Dobbiamo recuperare le cutting pliers Le cutting pliers stanno di qua Vai Su Spettacolare Ma adesso dobbiamo fare un'altra cosa Prima Dobbiamo prima Mettere qua la gasoline Dentro il go kart Ok Su su Metti qua dentro Refilla tutto quanto Dopodichè con il go kart Possiamo rompere una parte di parete Che si trova lì vicino Saliamo di qua Vai 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 Muoviti Muoviamoci di qua Sali di sopra Sali 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 Mamma mia Questa transenna Che si trova di qua Perfetto Ora andiamo di qua E nel frattempo Me ne vado via Scendiamo di sotto Andiamo a prendere le cutting pliers E ce l'abbiamo fatta Mi sa che ce la faremo un altro giorno Ciao Rod Ciao Io me ne vado Me ne vado Scappiamo 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 Torniamo di sotto Recuperiamo le cutting pliers Ora non so se l'ho già raccolta E buttate dentro Si l'ho prese Vai Perfetto Prendi qua le cutting pliers E adesso facciamo un rumore Di qua In modo da poterlo tirare Nel piano inferiore Vediamo se Rod scenderà Da questo lato Oppure no Rodino Si sta scendendo di qua Veloci 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 Saliamo di qua Attraverso le scale Velocemente Su su muoviti Personaggio Vai che ce la stiamo facendo E anche stavolta Siamo riusciti a vincere Su Ice Cream Uno Vai vai Muoviti 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 Perfetto Andiamo di qua Andiamo subito A rompere i fili Che stanno da questo lato Velocemente Bravo personaggio Rompe di qua Il filo Vai Che bello E adesso cerchiamo subito La chiave La KGK Che sta qua dentro Vai Su su Prendi qua Prendi qua Raccogli Che problema hai Prendi sta KGK Ah qui tra l'altro C'era il diario di Rod Dove parla che finalmente La macchina è pronta Ma di questa macchina Ve ne parlerò In un prossimo video Usiamo subito Qua la scala Per poter risalire Ma soprattutto Facciamo attenzione a Rod Perché Rod Se ci vede È un serio problema Sì ma sali bene Sali bene personaggio E allora Che problema hai No Scendi 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 Subito Mamma mia Mamma mia Speriamo che Rod Non venga di qua Speriamo Altrimenti un serio problema Un serio problema Rod Non venire Non venire qua Per favore Per favore E dai Ci manca soltanto Rod Che viene da questo lato Sarebbe stato bello Sapete che cosa Magari un pulsante Che mi consentiva Qua di poter aprire La porta In modo da non dover Rincontrare Rod Da questo lato No Insomma Dai su Gelataio Vai pure via Per favore Vai pure via Comunque Nell'attesa Già che ci sono Vi dico la grande novità Che riguarda Ice Cream 4 Perché finalmente Hanno messo la pre-registrazione Del quarto capitolo Sia su Android E sia sull'App Store Per iPhone E iPad Però per la pre-registrazione Di iPhone E iPad Hanno messo pure La data di uscita E la data di uscita È il 28 05 2021 28 maggio 2021 Mamma mia Praticamente due mesi E io che faccio in questi due mesi Senza avere il gioco No Avrei sperato che il gioco Come Nightmare Gate E Evil E Emily Escano molto prima Speriamo Ok Ora posso andare di qua O mi ritrovo un rod Da queste parti Ok Me ne vado via Me ne vado via Via Ciao Rad È stato un piacere È stato un grande piacere Mi sono divertito A giocare a questo primo capitolo Sono sincero Mi piace un sacco Il primo capitolo Del gelataio Via Ce ne andiamo qua Neighbor E vai Siamo riusciti a salvare Il nostro amichetto Dal caro gelataio Charlie Io ti salvo Stavolta Però non farti più rapire Altrimenti poi mi tocca Fare un quarto capitolo Ma soprattutto Avvisa tua sorella Non prendere mai Gelati da rod Cioè diglielo No Non prendere i gelati da rod Vai Capitolo superato Vinto alla grande Spettacolare Nel frattempo Qui c'è il nostro Caro Charlie Che festeggia così Grande Charlie Grande E ha pure preso Un frullatore No Già che c'era No Già che erano Il furgole Portiamoci a casa Un frullatore Va bene Gioco completato Ho completato il gioco E ho preso uno dei tre oggetti segreti Di rod Il gelataio Quello che ci servirà poi Per poter preparare Il gelato Con la pozione segreta Con l'ingrediente segreto E direi di finire anche qua Questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se vorreste vedere anche Gli altri capitoli di Ice Cream Uno riportati Che li porto molto volentieri Ovviamente appena ci saranno ulteriori notizie Sul quarto capitolo Vi farò subito sapere Che io non vedo l'ora di scoprire cose nuove Di questo Ice Cream 4 Vi lascio comunque qui sotto in descrizione Il link per potervi pre-registrare In caso qualcuno volesse pre-registrarsi Anzi io vi consiglio di fare la pre-registrazione Per chi vi daranno delle chiavi Per poter sbloccare degli oggetti Quindi pre-registratevi Quindi che dire Il video finisce qua Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto vi racconto Spalliciate che si vedete Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Ci vediamo in un prossimo video E come sempre vi auguro Una buona giornata Una buona giornata E una buona notte Ciao a tutti E buon panino a tutti